Delusione ed amarezza, continuano ad accompagnare il cammino del Catania che non sa più vincere né segnare. Anche ieri infatti è andata di scena una prestazione assolutamente da dimenticare dei rossazzurri che non sono riuscite ad andare oltre lo 0-0 nella sfida sul campo della Sicula Leonzio. Una partita giocata male contro un avversario di certo non irresistibile, nella quale non si è mai vista la grinta di quella squadra che doveva ammazzare il campionato e adesso si trova ad 11 punti di distanza dalla vetta occupata dalla capolista Juve Stabia. La cosa che preoccupa di più è che sono cambiati alcuni degli interpreti dell'undici titolare, ma non si è visto alcun miglioramento nemmeno con l'innesso di Brodic, Angiulli e Mannè che non sono riusciti a dare a Marotta un solo pallone utile e giocabile da scagliare contro la porta avversaria. La situazione è preoccupante anche perché sottil dà la netta impressione di non capire come venire fuori da questo momento così delicato e la squadra rossazzurra non ha più un'identità tattica e questo a prescindere dal sistema di gioco che oltretutto è quel 4-2-3-1 con cui il tecnico del Catania pensava di mettere in piedi una stagione di grandi risultati. Continua a stupire poi il momento di Francesco Lodi, oggi fuori dall'undici titolare e a quanto pare vicino all'addio ai rossazzurri nel mercato di gennaio, lo stesso che dovrà assolutamente dare nuova linfa ad una squadra che però dovrà cercare di fare più punti possibili fino alla fine dell'anno, a partire dal match casalingo in programma domenica alle 14.30 al Massimino contro la Cavese.